per i nostri scaldaporsi avremo bisogno di quattro colori diversi di bixi filato di filati discount dei ferri circolari numero 5 un metro da sarta un marca punto e alla fine un ago per andare a fermare le codine filato che io ho scelto in quattro colorazioni è il senape il bianco il blu e il verde ma se andate nel sito di filati discount e troverete veramente una vasta gamma di colori ho presentato questo filato in tutti i colori che hanno a disposizione in un altro video che vi lascio qui sopra avrete poi il link al video presentazione del filato come prima cosa prendiamo il nostro metro da sarta ed andiamo a misurare la circonferenza della parte più larga della nostra mano in questo caso io ho preso la misura della mia mano che è di 20 centimetri adesso ve lo faccio vedere eccolo qui ho preso proprio la misura più grande sono stata non sono stata proprio stretta proprio perché sono scaldaporsi e quindi non devono essere aderenti alla mano ho cercato di fare qualcosa di abbastanza comodo quindi la larghezza è di 20 centimetri fate un campione fate un campione sempre di 15 cm x 15 cm e ricavate quanti quante maglie avrete in larghezza e poi calcolate le maglie da montare nel mio caso io ho montato 38 maglie per una larghezza di 20 cm se noi andiamo a vedere vedete che qui la mia larghezza è di 10 e la parte posteriore di 10 quindi 20 cm più per il lavoro in circolare può esserci mezzo centimetro da una parte e mezzo dall'altra quindi i miei 20 cm comodi altro consiglio che mi sento di darvi in particolare per chi sta iniziando adesso questo lavoro non utilizzate dei cavi troppo corti se avete delle punte normali perché siccome la circonferenza è molto piccola lavorare in circolare senza utilizzare la tecnica del magic loop risulterebbe un po più complessa rispetto invece all'utilizzo di un dei ferri circolari con cavetto un po più lungo rispetto a a una piccola circonferenza quindi io sto utilizzando questi sono dei ferri acrilici numero 5 sto utilizzando un cavetto che ha una lunghezza di 90 centimetri a seconda dei miei calcoli io devo andare a montare 38 maglie sui miei ferri circolari ed inizio da questa parte con il colore blu quindi monto 38 maglie con il metodo che più utilizziamo insomma con il metodo che utilizziamo frequentemente io utilizzo sempre e quasi solo lo stesso quindi prendiamo i nostri ferri e montiamo 38 maglie una volta montate le nostre 38 maglie andiamo a separare a dividere scusate non separare dividere le maglie a metà all'incirca la metà in modo che iniziamo subito a lavorare con la tecnica del magic loop quindi sfiliamo il cavo e cerchiamo di far andare le maglie da una parte e dall'altra sopra ai ferri che stiamo utilizzando è sempre importante che il nodino che i nodini della nostra del nostro avvio siano rivolti siano rivolti sempre verso il basso quindi che qui non ci sia nessuna stortura ecco qui e che il capo il capo che arriva dal gomitolo sia sempre rivolto sulla parte esterna del nostro lavoro quindi non verso di noi sul ferro che dà all'esterno quindi noi adesso andremo ad unire il nostro lavoro in tondo e queste sono le prime due accortezze che dovremmo avere i nodini tutti rivolti verso il basso senza stortura al lavoro e il ferro dal quale arriva il lavoro quindi il il filato del gomitolo sull'esterno una volta che siamo in questa posizione sfiliamo il nostro ferro dal quale arriva il capo del gomitolo ed iniziamo a lavorare facendo un giro al dritto in questo modo andiamo a chiudere in tondo solo iniziando a lavorare quindi lavoriamo tutte le nostre maglie al dritto adesso lavoriamo la prima parte quindi quella che è sul ferro rivolta verso di noi vi faccio vedere come una volta arrivati al termine delle maglie che sono sul ferro dobbiamo andare a sistemare nuovamente il cavetto per poter continuare la lavorazione ho lavorato tutte le maglie adesso il ferro che si è svuotato lo lascio sul mio piano da lavoro tiro il cavetto in questo modo e faccio tornare il ferro ad accogliere le maglie che devo lavorare quindi ruoto il mio lavoro in questo modo ho sempre il capo del filato che arriva dal gomitolo sulla parte esterna lo lascio al di sopra del lavoro prima di sfilare il ferro porto sempre tutto il mio lavoro in pari almeno nei primi giri stilo questo ferro e lavoro l'altra metà delle maglie e sto facendo il primo giro di lavorazione quindi questo è proprio il primo giro dal quale poi partirà la sequenza di tutti gli altri giri sino arrivare all'apertura del pollice ora ovviamente io adesso vi farò vedere il cambio colore però non faremo proprio tutto il lo scaldapolso assieme perché è veramente un lavoro così semplice che dovete solo continuare a lavorare con la cadenza del cambio di colore e con la cadenza del cambio di punto che io poi vi indico come al solito nel pattern che nei miei appunti non il pattern che vi potete scaricare quindi una volta che io ho terminato di lavorare tutte le maglie e le ho riportate su questo ferro ed il secondo ferro si è svuotato prendo nuovamente il cavetto lo tiro e riporto il mio ferro ad accogliere tutte le maglie che ho appena lavorato ovviamente faccio attenzione che qui non si creino delle cioè che il ferro non non mi non mi ruoti il lavoro terminato il primo rigo io adesso metto un marca punto ed ora dovrò andare a fare due righe righe di maglia al rovescio lavorando in circolare se noi lavoriamo al dritto come ho detto già altre volte otterremo la maglia rasata per ottenere il rovescio del lavoro dobbiamo lavorare direttamente al rovescio quindi adesso andremo a fare due giri di maglia al rovescio per cui sempre con il filo verso l'esterno sfilo il mio ferro passo il marca punto ed inizio a lavorare tutte le maglie al rovescio e faccio il primo giro cosa importante che scusate dimentico sempre di dirvi abbiate l'accortezza di appuntarvi giri o tenendo il conto con un contagiri oppure appuntandolo proprio su un pezzo di carta dove volete voi ho terminato i miei primi giri di rovescio adesso un'alternanza di tre giri al diritto quindi la lavorazione al diritto tre giri al rovescio e tre giri al diritto quindi quando avrò terminato questa alternanza vedremo come cambiare colore ho terminato la prima alternanza di rovesci e dritti adesso è il momento di cambiare colore ed iniziare con il colore bianco qui sembra che io abbia fatto abbia iniziato direttamente sul rovescio del con i punti a rovescio in realtà quello a cui dobbiamo prestare attenzione ad ogni cambio di colore dobbiamo fare un giro al dritto in modo che non si veda il passaggio tra un colore e l'altro quindi arrivati adesso qui ho la codina il mio marca punto eccolo qui io adesso taglio una piccola porzione di filo per fare il cambio colore non la faccio eccessivamente corta perché poi dovrò andare a nascondere la codina quindi tolgo il filato blu prendo il bianco prendo il capo quindi tengo la codina rivolta verso l'interno del lavoro così da questa parte stilo sempre il filo il ferro scusate della parte esterna lo infilo nel primo punto dell'altro ferro ed aggancio il nuovo filato quindi il filato del cambio colore ed inizia a lavorare con questo filato ovviamente facendo sempre attenzione a non lavorare con la codina quindi faccio qualche punto almeno 45 faccio un piccolo nodino in modo che qui non si crei quello spazio anti estetico quindi a modo la codina blu con la codina bianca ed entrambe le porto all'interno di tutta la lavorazione in modo che non mi ostacolano durante il lavoro così adesso continua e faccio il primo giro al diritto quindi termino di lavorare al diritto e poi faccio nuovamente le righe tutte al rovescio terminato il mio giro al dritto con il bianco che mi è servito a fare il passaggio da un colore all'altro adesso farò nuovamente tre giri di bianco al rovescio e tre giri di bianco al diritto dopodiché al quarto giro andrò a cambiare lavoro colore quindi l'alternanza che si deve seguire voi la troverete scritta nei miei appunti l'unica accortezza è che tra il cambio di colore ed un altro voi facciate un rigo al dritto in modo che il cambio non è percepibile per cui io arrivo sino al cambio di colore sul se dal senape al bianco e poi andremo a vedere assieme come fare l'apertura per il pollice arrivati a questo punto della lavorazione quando avremo ripetuto tutte le ripetizioni che comunque come vi ripeto troverete scritte dovremo interrompere la lavorazione in circolare per andare a formare l'apertura per il pollice quindi arrivati al secondo giro con il bianco arrivati a questo punto piuttosto che riprendere a lavorare normalmente iniziamo a lavorare da questa parte sino ad arrivare all'altro lato piuttosto che lavorare adesso queste maglie ripetiamo la lavorazione su questo rigo quindi dove abbiamo il filato che arriva dal gomitolo lavoreremo all'indietro e torneremo da questo lato a questo punto per far venire la nostra maglia rasata sul dritto del lavoro dovremo seguire il lavoro che abbiamo sul rovescio quindi dovremo andare a lavorare il primo giro al rovescio per cui iniziamo dal primo punto e lavoriamo tutte le maglie al rovescio quindi il mio lavoro in circolare l'ho interrotto da questo lato ho lavorato al rovescio questa porzione di lavoro ho lavorato al rovescio l'altra porzione adesso devo fare la stessa cosa tornando indietro ma ora avrò da lavorare un giro al diritto perché la mia maglia rasata si forma con un dritto ed un rovescio in questo caso è come se noi stessimo lavorando in modo lineare anche se stiamo lavorando solo una porzione per dare maggiore sostegno all'apertura facciamo sia sul dritto che sul rovescio la prima maglia che abbiamo qui sull'apertura e l'ultima maglia andremo a fare al diritto quindi adesso continuo e faccio questo lavoro di andata e ritorno 6 o 7 giri anche a seconda di quanto largo vogliamo vogliamo la nostra apertura quindi io adesso andrò io qui ho fatto sette giri di andata e ritorno e poi andremo a vedere come chiudere nuovamente in circolare per cui facciamo avanti e indietro seguendo sempre la lavorazione quindi dritto su dritto e rovescio sul rovescio per fare in modo che ecco io ho terminato la mia apertura per fare in modo di riportare correttamente il lavoro in circolare l'ultimo giro prima della chiusura deve essere fatto al dritto quindi ho lavorato da questa parte sono tornati indietro ho lavorato al dritto o nuovamente il filo che arriva al gomitolo sulla parte esterna del lavoro a questo punto sfilo il ferro e riprendo la mia lavorazione in circolare quella cui si deve prestare attenzione e che l'ultimo giro sia al dritto quindi una volta che io ho terminato riprendo la lavorazione e qui resta l'apertura per il pollice e posso continuare con la lavorazione dei colori quindi dopo l'apertura avrò altri due giri di bianco poi uno di verde al dritto uno di verde al rovescio due di verde al dritto fino ad arrivare alla chiusura quindi io continuo arrivando sino seguendo l'alternanza dei punti e dei colori e poi vediamo assieme alla chiusura il nostro ultimo giro e al rovescio quindi l'ultimo giro si fa rovescio con il blu dopodiché andiamo a chiudere e chiuderemo al diritto quindi non seguiremo l'ultimo giro di lavorazione per cui sempre con il filo dalla parte esterna lavoriamo la prima maglia ora mi spiace per il colore perché forse non è ben visibile comunque si lavora la prima maglia la riportiamo sul ferro e lavoriamo la maglia appena lavorata e quella che ancora da lavorare tutte e due assieme a dritto ritorto quindi prendendo tutte e due le maglie dal dietro e le lavoriamo assieme riportiamo la maglia sul ferro dove ci sono le maglie da lavorare prendiamo tutte e due le maglie da dietro e le lavoriamo assieme e facciamo così con tutte le maglie sino a rimanere con una sola maglia che poi andremo a a fermare e a chiudere per bene sull'altro lato una volta terminata la chiusura abbiamo il nostro occhiello facciamo passare il filo all'interno mettiamo questo cappio su un ago da lama e cerchiamo di andare a chiudere la nostra circonferenza ecco io ho preso un ago forse un po troppo piccino una volta infilato il mio ago da lama cerco di rientrare nel primo punto così prendendo entrambi io capisco che adesso il filato è scuro e non si riesce a vedere bene però entro in entrambi i lembi del punto ed è come se io stessi riformando una maglia quindi vado a fare una chiusura piuttosto pulita a questo punto rientro all'interno del lavoro e vado a fermare la mia codina ma non lo farò solo con questa di chiusura ma dovrò farlo con tutte le altre quindi prenderò un ago da lama e andrò a passare colore su colore bloccando tutte le codine all'interno ed ecco che i nostri scaldaporsi sono terminati ora il il passaggio della chiusura di tutte le codine poi magari ce lo facciamo ognuno se lo fa da sé allora ovviamente le misure sono personalizzabili nel senso che la circonferenza viene calcolata in base alla circonferenza della mano ma anche la porzione che precede l'apertura del pollice può essere anche duplicata a secondo dei gusti non dovete fare particolare prestare particolare attenzione al lato del pollice dell'apertura perché comunque sono uguali si da una parte che dall'altra quindi non c'è nessun problema io credo di che non sia nemmeno necessario questa apertura del pollice nel senso che essendo scaldapolso non è detto che vadano messi proprio all'altezza del pollice insomma come come dei guanti ecco per intenderci in questo modo io vorrei vorrei indossarli per farvi capire che cosa intendo allora qui ora ovviamente le codine sono allora se io l'indossassi in questo modo avrei qui l'apertura del pollice potrei però indossarli anche al contrario senza utilizzare l'apertura del pollice portandoli anche più in basso rispetto rispetto alla mano ed avere solo questa porzione che esce che ne so da un giubbino piuttosto che da un altro maglioncino o o semplicemente così portarli proprio per scaldare i polsi e avere comunque le mani libere questa parte data la lavorazione è piuttosto elastica quindi non aumentate tanto in circonferenza anzi piuttosto state abbastanza abbastanza giusti l'unica differenza che c'è tra una parte e l'altra è proprio questa lavorazione ricordiamoci anche che questo tipo di filato è molto elastico quindi è si presta bene a questo tipo di lavori quindi guantini cappelli ma anche maglioncini spero che questo tutorial vi sia stato utile che vi che non vi abbia annoiato sono ho cercato di essere il più sintetica possibile troverete qui nell'info box link sia il materiale che ho utilizzato che ai filati che i colori che ho utilizzato ed anche i miei appunti sempre trascritti che trovate nel mio blog e sono a disposizione gratuita è un pdf quindi scaricabile stampabile se avete domande se c'è qualcosa qualche passaggio che non è stato chiaro potete commentare il video e io cerco di rispondere a tutti al prossimo video a presto